Ed è tempo di bilanci in alto adige per l'assessore provinciale all'edilizia Massimo Bessone. Volge a termine il suo mandato tra le opere più attese a Bolzano, il nuovo carcere e il futuro polo bibliotecario. Il servizio della nostra redazione di Bolzano. È tempo di bilanci anche per l'assessore provinciale all'edilizia pubblica, libro fondiario al catasto e al patrimonio Massimo Bessone. La legislatura volge al termine. Proprio questa mattina nella sala del nuovo palazzo del personale di Via Renona a Bolzano sono stati illustrati molteplici interventi eseguiti e i progetti posti in essere dalle ripartizioni competenti. Abbiamo realizzato l'ospedale di Bolzano, il pronto soccorso di Merano, l'ospedale di Bressanone in piena pandemia. Quando iniziavano le chiusure della pandemia abbiamo consegnato all'ospedale di Bressanone un'intera area affinché la potessero utilizzare per le persone colpite dal virus oppure per spostare i pazienti. Ma credo che un pochino dappertutto abbiamo costruito, ecco, la cosa più importante è che abbiamo costruito in tutta la provincia per tutti e tre i gruppi linguistici senza badare a bacini elettorali ma alle reali esigenze dei cittadini. Lavorare a 360 gradi, light motive scelto dall'assessore Massimo Bessone, uno slogan che fotografa la fine del mandato targato 2018-2023 con un focus particolare sulle opere anche attese dal nuovo carcere di Bolzano al futuro polo bibliotecario Lex Pascoli. Finiremo il 2023 con tutta la progettazione e dall'inizio del 2024 inizierà la demolizione e la ricostruzione. Torno a ripetere, è un progetto molto importante per il quartiere, è un centro per tutti i giovani per potersi incontrare, sale di presentazione, libri, riunioni, biblioteche, ci sarà tantissimo, è un centro per l'autonomia a testimoniare questo valore grande che abbiamo noi in Alto Agile. Infine è stata ricordata l'importanza della tutela dei 26 rifugi, punti di riferimento per tantissimi escursionisti, scalatori mountain biker ma anche del soccorso alpino.